Buongiorno, saluti dalla Sicilia, un saluto particolare a Carolina Valle. Quanto vale Brand Sicilia, Brand Italia, quanto vale? Vale 60 miliardi l'export italiano nell'agroalimentare, è un punto d'arrivo? No, è un punto di partenza, perché noi possiamo davvero avere un mercato infinito, una crescita infinita delle nostre aziende che promuovono nel mondo la qualità, questo è un valore aggiunto, arricchimento del paese, distribuzione delle ricchezze potendo aiutare anche più. Ma creando lavoro, non prendendoli in giro con provvedimenti astrusi, creati in laboratorio che impoveriscono l'Italia. Ministro, noi a New York avete presentato come Italia questa candidatura, come procede? È un passo importante di questo governo, con la sua grande intuizione, come procediamo? Procede molto bene, perché abbiamo potentissimi ambasciatori in ogni luogo, i nostri ristoratori, i nostri italiani all'estero, tanti siciliani in giro per il mondo che si richiamano anche seconda, terza generazione alla madrepatria e con orgoglio promuovono i nostri prodotti e devono farlo per spiegare agli altri che cos'è la qualità, perché questa cosa che invece hanno spiegato le nonne e le mamme nel resto del mondo non sempre è così chiara e abbinarla alle nostre produzioni, diverse da quelle che invece tentano di far passare per italiane che italiane non sono. Questo può portare al risultato non solo e non tanto di avere la cucina italiana come patrimonio dell'UNESCO e questo riconoscimento che già io darei per scontato, ma mette in condizione di agganciare le nostre filiere produttive a questa campagna per due anni e da questo punto di vista con le nostre imprese, i nostri giornalisti, i nostri cuochi, i nostri trasformatori, i nostri imprenditori che lo raccontano, possiamo fare davvero un ottimo lavoro Viva l'Italia Viva la Sicilia